Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Ponte Curone e tra poco chiederemo pregi e difetti di questo paese a tre persone fermate in maniera casuale. Andiamo! Gli difetti e stare lì a guardare ce ne sono tantissimi. Come paese è un bel paese. È un paese diciamo abbastanza tranquillo, frequentato, fanno delle belle feste, soprattutto d'estate. Il difetto che proprio le viene all'occhio non appena arriva in Ponte Curone, è qualcosa che nota quotidianamente magari? Sì, facce brutte. Cosa intende? Delinquenza? Beh anche, secondo me sì. Ci sono anche abbastanza delinquenti qua. Perché qui anche l'anno scorso, due anni fa, aveva uno coltellato maruchino, ci è stato morto, come dappertutto. Però come paese, ripeto, è bello ed è anche brutto. Ma non ce n'è di difetti, dai. Io dal 1976 che abito qua mi sono trovato sempre bene, ho sempre lavorato e quindi... Possibile, neanche un difetto Ponte Curone? Ma no, dai. No, ma io mi trovo bene qui, proprio benissimo. Guarda, dal 1976 che abito qua ho sempre pagato le tasse, quindi io non ho niente da dire contro nessuno. Quindi diciamolo, un pregio specifico di Ponte Curone qual è? Un pregio? L'unico affare, sai cosa c'è? Che i bar chiudono alle 8. E questo è un difetto però? Bravo, che il Comune dovrebbe intervenire, non c'è una traduzione della partita, non c'è niente. Quindi i bar dovrebbero chiudere un po' più tardi? Sì, a mezzanotte, alle 11. Questo qui chiude alle 8, l'altro alle 8. L'unico che c'è è il cinese. Ci tiene aperto fino a tardi? No, fino a tardi niente, prima. Adesso alle 10 chiude, perché la gente entra e non consuma e quindi il problema è quello lì. Un pregio è sicuramente il fatto che la Proloco funziona benissimo, fanno eventi anche per i bambini, per gli anziani, quindi funziona molto bene. In quanto al difetto bisognerebbe intervenire a livello di strade, nel senso che ci sono strade anche dissestate, quindi pericolose per chi viaggia in bicicletta o comunque anche per i pedoni e anche per i bambini. Grazie a tutti.